Kublai Khan, noto anche come Kublai Khan o Kublai Khan, fu un generale e statista mongolo. Egli fu il nipote e il più grande successore di Gendis Khan. Come quinto imperatore regnante dal 1260 al 1294 della dinastia Yuan, o mongola, completò la conquista della Cina iniziata da Gendis Khan nel 1211 e divenne così il primo sovrano Yuan dell'intera Cina. Kublai Khan governò non solo la Cina, ma anche tutte le altre dominazioni mongole, che includevano aree diverse come l'Orda d'Oro nel sud della Russia, l'Ilcanato della Persia, l'attuale Iran, e le terre delle steppe dove i principi mongoli vivevano ancora la tradizionale vita nomade. La gestione della Cina, con la sua lunga e peculiare storia politica e culturale, richiedeva una particolare abilità di governo. Marco Polo, famoso esploratore e mercante veneziano, fu uno dei visitatori stranieri alla corte di Kublai Khan e scrisse dettagliatamente delle sue esperienze in Cina. I mongoli erano una potenza nomade emergente. Prima che Gendis Khan li consolidasse sotto il suo controllo centralizzato nel 1206, erano poco più di un gruppo di tribù largamente autonome, quasi sconosciute alla storia registrata. Avevano poca esperienza di attività economica, ad eccezione della caccia organizzata e della gestione del bestiame. Fino a pochi anni prima della nascita di Kublai, erano analfabeti. La loro competenza politica limitata contribuì al relativamente rapido collasso del loro impero. Il controllo Yuan di tutta la Cina durò meno di un secolo. Tuttavia, con alcune eccezioni notevoli, come Kublai stesso che i mongoli chiamavano sempre Setsen Khan, il Khan saggio, i governanti mongoli sembravano considerare il potere come una proprietà personale o familiare da sfruttare, per il guadagno immediato. In breve, Kublai Khan fu una figura di grande importanza nella storia mongola e cinese, e la sua eredità continua a influenzare la nostra comprensione di quei tempi affascinanti e complessi. Le principali realizzazioni di Kublai Khan includono, conquista della Cina. Kublai Khan completò la conquista della Cina iniziata da suo nonno, Gendis Khan. Nel 1279, fondò la dinastia Yuan e divenne il primo sovrano mongolo a governare l'intera Cina. Stabilizzazione del governo, Kublai Khan riformò l'amministrazione cinese, creando un sistema di governo centralizzato. Ha nominato funzionari cinesi e mongoli per gestire gli affari di Stato e ha cercato di integrare le tradizioni, cinesi con quelle mongole. Promozione del commercio e delle relazioni estere, Kublai Khan ha incoraggiato il commercio lungo la via della seta e ha stabilito relazioni diplomatiche con altre nazioni, inclusa l'Europa. Ha ospitato l'esploratore Marco Polo alla sua corte e ha cercato di stabilire legami culturali e commerciali con il mondo esterno. Sviluppo delle arti e della cultura, durante il suo regno, Kublai Khan ha sostenuto le arti, la letteratura e la scienza. Ha promosso la costruzione di opere pubbliche, come il Grande Canale, e ha incoraggiato la produzione di manufatti artistici e letterari. Costruzione di nuove città, Kublai Khan ha fondato nuove città, tra cui la capitale Kambalik l'attuale Pechino, che divenne un importante centro politico, culturale ed economico. Promozione del buddismo e del taoismo, sebbene fosse un seguace del tibetano lamaismo, Kublai Khan ha sostenuto il buddismo e il taoismo, contribuendo alla diffusione di queste religioni in Cina. In sintesi, Kublai Khan è stato un sovrano influente che ha lasciato un'impronta significativa sulla storia della Cina e dell'Asia centrale. Marco Polo e Kublai Khan avevano una relazione significativa durante il loro tempo insieme. Ecco alcuni punti chiave, arrivo di Marco Polo, dopo un viaggio di tre anni e mezzo. Marco Polo, suo padre e suo zio arrivarono a Shangduk Sanadu, la capitale estiva di Kublai Khan, non lontano da Pechino, nel 1275, quando Marco aveva 21 anni. La notizia del viaggio dei Polo era stata trasmessa a Kublai Khan da messaggeri in stile Pony Express. Gli inviati del grande Khan raggiunsero i Polo nella Cina centrale e li scortarono per gli ultimi 40 giorni del loro viaggio verso Shangduk. Accoglienza da parte di Kublai Khan, Kublai Khan accolse i Polo come amici di lunga data. Utilizzò Marco Polo come ambasciatore inviato in Cina e in altri regni asiatici. Questo non era così insolito, perché Kublai Khan impiegava migliaia di stranieri, principalmente persiani e arabi. Formazione di Marco Polo Marco Polo fu essenzialmente adottato come figlio da Kublai Khan, il più potente sovrano sulla terra e nipote di Gendis Khan. Marco fu istruito nella tradizione di studioso guerriero, imparando l'uso dell'arco, le tattiche di guerra mongole, le arti marziali cinesi, le lingue e le lettere. Questa formazione fu una vera e propria rinascita culturale per lui. Ruolo di Marco Polo Marco Polo fu utilizzato da Kublai Khan come emissario e ambasciatore. La sua conoscenza delle lingue e delle culture sia mongola che cinese lo rese prezioso per la corte di Kublai. Marco Polo scrisse anche dettagliatamente delle sue esperienze in Cina, contribuendo alla nostra comprensione di quei tempi.